Innanzitutto posso dire che sto bene, è chiaro che la sera i sintomi diventano un po' più forti come può essere una fortissima influenza, ma ovviamente vedremo poi i prossimi giorni come andrà, devo misurare la febbre, accortezze quotidiane, ovviamente lontananza da mia moglie e mio figlio e aspettiamo e vediamo giorno per giorno ciò che accade. Una cosa certa, si continua a lavorare a pieno regime, anche da casa, anzi ringrazio i miei collaboratori che praticamente riescono a svolgere un lavoro impeccabile anche a distanza, un grazie particolare a tutti coloro che mi hanno mandato dei messaggi e so che l'affetto del quale sono lusingato però è un affetto sicuramente molto più ampio, destinato a tutti coloro che quotidianamente stanno combattendo questa guerra, a coloro che si sono ammalati, a coloro che non ce l'hanno fatta, alle loro famiglie. L'Italia vincerà questa guerra, qui grazie alla responsabilità, all'amore, alla solidarietà verrà fuori tutta la resilienza di questo popolo.